Siamo nello showroom di Fabio Caserta, qui a Bologna, qui al centro, Fabio Caserta fashion stylist. Vi proponiamo delle immagini nuove, delle rivisitazioni, pensate, studiate da Fabio. Fabio che è tutto, è fashion stylist, è anche hair stylist, è tutto di più. Insomma è stylist, è stile quindi nell'anima. Quindi qui facciamo l'immagine che è legata alla tua vecchia immagine. Per creare un'articipazione alle nuove immagini. Bologna! Io faccio i vestiti che so super! Eh vabbè, il resto è anche trucco, con quei vestiti comunque viene il bello del petto. Ci faremo, ma che mi so che nelle lecchie? Tu pensai, dicevi che ci sentiva bene! Come sai? Ma mi manda, ti sento! Tim Basinger! Ce so pure io! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ah Fabio, tu hai pensato, tu l'hai realizzata! E' vero eh! Ho rispiatato la lacca! Un sconvolto! Sì, secondo me deve anche... Stava a ruffar bionda ma chissà aspettata! Lui dice, è bionda! La pelle, c'è bionda e il mio soldato! Posso fare io qua? Sì, basta che non mi fai... E' il settimo buco! Il vestito è poco una favola! C'è poco da fare! Fatti sta storia! 12 ore del sabato e domeniggio sto sempre là a mangiare la pedripa, l'antipasta, la cosa, il pranzo, l'amici, il caffè, la cosa... Invece oggi no! Silenzio, muta zitta che la stomma comodo! Per far entrare i vestiti se non mi entravero! Allora... Niente, avevo cambiato la faccia! Così! Avevo fatto un look diverso! Un look nuovo! Vi mettiti lì! Vi mettiti lì! Che poi facciamo... Cambiamo il vestito! Ho! No! Lo sentiero! Beh, non mi sodio. Non mi sono. Le sentiero! Beh, non mi sono. Oh... Ho! Ho! Siamo nella chiesa della Santissima Ferma, ferma Che legazza Che plasticità Ma soprattutto che papagna sta musica Stratecità Ma se viene il grasso Grazie 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 Grazie